Il numero verde della Sala Operativa Sociale SOS di Roma Capitale 800 4400 22 ora è accessibile anche alle persone sorde che possono chiamare e interloquire con gli operatori attraverso l'applicazione gratuita Pedius. App è già usata da oltre 30.000 utenti ed attività in 14 paesi del mondo. Il servizio si affianca a CGS, Comunicazione Globale per Sordi, già attivo per i soli residenti di Roma Capitale. Grazie. 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 Grazie.